Musica Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha individuato altri due potenziali ladri d'appartamento. Come si è svolta l'attività? Sì, diciamo che c'era giunta una segnalazione alla sala operativa che era stato perpetrato poco prima un tentativo di furto in abitazione in una via della Chiappa, via Raspolini, e avevamo proprio in zona una pattuglia della Polizia di Stato in Borghese, quindi della squadra mobile che stava facendo attività di prevenzione e di contrasto ai furti negli appartamenti, pertanto hanno battuto la zona e hanno trovato questi due giovani le cui descrizioni collimavano con quelle forniteci dal cittadino che aveva chiamato il 113 e dopo un breve inseguimento sono stati fermati e controllati. Erano due cittadini albanesi molto giovani provenienti da Milano e avevano indosso tutto il necessario per appunto portare avanti un'attività di furto e di scasso in un'abitazione. Si è sequestrato un grosso cacciavite, dei guanti in lattice e delle torce a led, nonché dei cappellini che portavano calzati per occultare la propria identità. Appunto sono stati poi denunciati dall'autorità giudiziaria per il possesso di questi strumenti, anche se non per il tentativo di furto perché non sono stati colti nella flagranza del fatto. Si avvicina anche il periodo di Natale, quindi l'attenzione ovviamente sulle strade e per la prevenzione, insomma l'attenzione è sempre alta. Sì, diciamo che la nostra attenzione per questi odiosi crimini non viene mai meno, ma soprattutto in vista del Natale, in vista del fatto che i nostri concittadini lasceranno le proprie abitazioni per andare a fare le spese e natalizie, ci porterà necessariamente ad intensificare l'attività che è sempre in alto e sempre alta, ma verrà ulteriormente intensificata proprio per garantire a tutti un Natale sereno. Grazie a tutti.